Nonostante ieri il decreto del Ministero, come stanno andando intanto le vendite? Ma guarda, le vendite stanno andando normali per quanto riguarda il nostro punto vendita, in quanto noi abbiamo i nostri clienti storici che vengono assiduamente e quindi anche con le restrizioni che è giusto che ha dato l'ordinanza il Ministro Conte, dobbiamo purtroppo, ed è una cosa importante rispettare le norme e le regole, oggi ci sono state per esempio 8-9 persone che hanno dovuto aspettare fuori e mano a mano entravano a due alla volta, quindi abbiamo servito bene o male tutti. Parliamo di norme, intanto siete con la mascherina all'interno o con i guanti? Assolutamente, abbiamo subito messo i guanti, abbiamo messo la mascherina, serviamo tutti i nostri clienti in questo modo, stiamo a un metro di distanza, abbiamo fatto entrare i clienti 4 persone alla volta, non creiamo assemblamenti assolutamente, molti clienti ci hanno anche chiamato perché noi forniamo anche gli anziani per pantofoleria, necessità sulle calzature, noi siamo aperti, facciamo il nostro lavoro, andiamo avanti, la vita continua, è giusto non fare assemblamenti, è giusto non creare confusione, però io penso che si possa lavorare in maniera normale, tenendo a mente quello che ha detto il Ministro Conte, con mascherina, guanti, un metro di distanza, non mi sembrano cose anormali, cerchiamo di fare le cose più semplici per poter fare in modo di sconfiggere questo virus, cacciamoci questo pensiero, facciamoci la Pasqua in santa pace e possiamo continuare a vivere.